ciao bambini si sta avvicinando una festa importante dai ditemelo voi forza sono curiosa di saperlo o te lo dico io pennuto no 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 te lo dico io io lo so che festa c'è c'è la festa di natale dove si mangia il panettone no pennuto per piacere spostati dalla telecamera oh no i bambini devono saperlo sì ma non devi confondere i bambini non siamo a natale siamo a pasqua vero bambini io ti dirò una cosa ho pensato di realizzare dei bellissimi segnaposto oh voglio vedere anch'io pennuto spostati però d'accordo va bene va bene resto qui dopo ci vediamo è promesso bambini ci vediamo dopo pennuto se ti sposti i bambini riescono a vedere il segnaposto allora io ho preso guardate lo vedete la confezione delle uova di carta così riuscite a disegnarci sopra potete prendere anche dei bicchieri di carta insomma basta che sia carta in modo tale che riuscite a disegnarci sopra e poi guardate io ho realizzato il mio coniglietto ho assemblato vedete un po rudimentale però ho assemblato i pezzi del mio della mia scatola e con le punte che vedete perché ci sono delle punte ritagliate ho realizzato le mie orecchie vedete avete visto poi ho disegnato i baffi gli occhi il naso la bocca insomma proprio come un coniglietto vero e anche voi dovete farlo ma soprattutto dovete metterci il nome magari dietro sulle orecchie dove volete voi in modo tale che il giorno di pasqua vicino al posto della mamma ci sarà un coniglietto vicino al posto del papà ci sarà un coniglietto vicino al posto del vostro sorellino fratellino un altro coniglietto insomma ognuno avrà il suo coniglietto oh che bello anch'io voglio il mio coniglietto pennuto per favore vedremo di realizzarne uno anche a te se ti comporti bene e se dici le cose giuste ai bambini e non li confondi va bene d'accordo mi piace pennuto lascia stare il mio coniglietto mi sono innamorato come ti sei innamorato mi sono innamorato pennuto per favore è così bello questo coniglietto santa polenta oh vieni vicino a me pennuto lascialo stare ma non parla per forza pennuto è costruito con la carta ma mi piace così tanto me lo porto via ciao bambini me lo porto via ciao ciao pennuto per favore dai lascialo stare dai pennuto